Con il voto di domenica scorsa, gli italiani hanno archiviato di fatto l'intera classe politica della cosiddetta Seconda Repubblica, un voto di protesta ancora più evidente nelle regioni del Mezzogiorno ed in Calabria. A tal proposito abbiamo ascoltato i cosendini per capire quali sono le loro aspettative all'indomani del voto dello scorso 4 marzo. Sì, diciamo che a mio avviso la gente un po' si è ribellata ad animo di politiche non propriamente rivolte verso il sociale e soprattutto al lavoro, quindi soprattutto il meridione secondo me ha reagito per questo motivo. Chiaro che poi adesso i partiti tradizionali si dovranno riorganizzare perché altrimenti hanno preso una bella patosta. Non vorrei essere comunque superficiale, ma da risultati due sono le cose. Fanno comunque un governo, il governo non lo fanno con il centrodestra, lo faranno con i Cinque Stelle. In entrambi i casi comunque sia l'uno che l'altro hanno messo sul mercato una serie di proposte, hanno fatto delle promesse. Teoricamente, o dall'una o dall'altra parte, a questo punto se le promesse vengono mantenute ci sono delle cose positive da una parte, positive dall'altra. Ritengo però che dal punto di vista dell'economia ci sia poco da essere felici, considerato che sia dall'una che dall'altra parte sono sostenuti i costi per mantenere le promesse. Significa che forse con la vittoria dei Cinque Stelle un cambiamento comincia, forse. Allegrie per tutta l'Italia, ma speriamo che formino il governo, un governo serio per quanto riguarda tutti i partecipanti, sia il centrodestra sia i Cinque Stelle con i loro partner che dovranno scegliere e noi aspettiamo. La Calabria ci voleva una svolta e quindi c'è stata, è tutto a posto. Mi auguro che le cose cambiano. Guardi, io la politica la odio. Il voto di Domenica più o meno si sapeva che era quello. Non so se riusciranno a fare qualcosa o dovremmo probabilmente riandare al voto, quindi non sarà cambiato niente, credo. Spero che qualcuno possa cambiarla. Per il Sud io non lo so. Pare che, quanto sembra, l'Italia sia divisa in due. Da una parte abbiamo la Lega, da un'altra parte abbiamo Cinque Stelle. Una Lega che però è riuscita a far breccia anche nel Sud e in Calabria. Certamente, perché Salvini è venuto in Calabria e ha parlato di questa immigrazione che effettivamente sta dando fastidio. Io non sono figurato contro gli immigrati, però la cosa comincia a diventare insostenibile su alcune zone. Ecco perché Salvini ha avuto questi voti. Perché Salvini non meritava niente. Ha sempre parlato male del Sud e sotto sotto anche oggi ho l'impressione, nonostante lui ha avuto il seggio a Reggio Calabria, però Salvini io ho l'impressione che non gode molto stima al Sud, ma è stata... Cioè i calabresi hanno voluto rivoltare le cose, ma non perché volevano voltare a Salvini, ma non hanno voluto votare il PD. A me questo dispiace. E che le devo dire? Che gli sta bene ai partiti che hanno perso. Che cosa?